Sono Regina Baresi, sono nata al 26 settembre 1991 e gioco a calcio da quando ho 12 anni. Non ho mai cambiato squadra, ho sempre giocato nell'Inter femminile, quindi da un po' di anni sono anche capitano. Oltre al calcio lavoro in televisione la domenica sportiva da qualche anno e dopo il mio percorso calcistico spero di riuscire a continuare nel mondo della televisione. Giocando a calcio faccio uno sport che è considerato prettamente maschile ma a me come a tante altre ragazze che fanno questo sport piace mostrare anche la parte femminile. Mi piace molto il mondo dei social perché penso sia uno strumento di comunicazione molto importante e fondamentale anche per trasmettere valori e consigli utili soprattutto per ragazzi e ragazze che mi seguono. Oltre al calcio e agli sport e al mondo della televisione ho tante passioni come ascoltare la musica, soprattutto cantanti italiani. leggere soprattutto romanzi d'amore perché sono molto romantica. Il mio film preferito è Notting Hill e l'altra mia grande passione sono i tatuaggi, quindi mi piacciono sia grandi che piccoli e ne ho abbastanza.